no manca tu Paola e lui tu e lui guardate che si cade e mi dovete portare a casa no vai piano vai piano uno no uno due tre bravo dai falta bene bene ok e così abbiamo fatto no e così abbiamo fatto anche i giri sulle palle del toro e avremo tanta fortuna tanta fortuna Peppi forse sarà scelto per lui è il prescelto lo sappiamo noi per cosa non possiamo dirlo però lui con il suo dedico il bolognese è una parolazza e va beh insomma comunque qua abbiamo delle bellissime single guardate che roba è una bellissima campogallese si dice così è una campogallese ragazzi della provincia di Modena una bella single valuta mandate un modulo da compilare cominciate con il reddito conto corrente insomma un po' di cose poi si valuterà ecco foto annessa eccetera ecco vabbè ok benissimo andiamo andiamo allora direi di andare là e poi a sinistra ok